L'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta, Marcello Frangiamone, chiarisce alla cittadinanza le modalità di segnalazione di guasti in merito all'illuminazione pubblica. È possibile infatti, così come viene indicato anche tramite social, far notare il disservizio specificando il numero del palo della luce interessato. Nel momento in cui invece la segnalazione viene indirizzata direttamente agli uffici comunali, verrà richiesto sia il numero identificativo che il gestore di appartenenza del punto luce. Per poter segnalare un guastio della pubblica illuminazione è importante sapere che la pubblica illuminazione della città di Caltanissetta è caratterizzata da due impianti di proprietà differente. Una metà degli pali di illuminazione della città di Caltanissetta sono di proprietà della società Enel Sole, oggi Enel X, mentre l'altra metà è di proprietà anche del comune di Caltanissetta. Per poterli riconoscere basta controllare l'adesivo che si trova o attaccato nel palo oppure in prossimità del punto luce che dà la possibilità di stabilire se è un punto luce di proprietà del comune di Caltanissetta oppure della società Enel Sole. Qualora è la società Enel Sole che deve essere interessata per la riparazione bisogna comporre il numero verde per la segnalazione che è 800-901-050 e indicare il numero del palo che è sempre specificato nel palo in prossimità del punto luce per poter chiedere l'intervento. La stessa cosa bisogna fare per i pali di proprietà del comune di Caltanissetta, quelli dove c'è scritto città di Caltanissetta, dove anche lì esiste un numero identificativo, però in questo caso bisognerà chiamare la ditta che si occupa della manutenzione degli impianti comunali e telefonata al 351 76 99 887 oppure al 0935 95 84 27. Invece viene fatta una comunicazione direttamente al comune, quindi presso gli uffici comunali, bisognerà specificare a quale dei due impianti appartiene il palo danneggiato e di nuovo individuare anche il numero identificativo del palo.